Gli alberi riducono l'inquinamento atmosferico, ma non lo fanno tutti allo stesso modo. Per questo la regione toscana ha presentato le linee guida per la piantumazione delle specie di alberi più utili ad assorbire gli inquinanti nell'aria, insieme alla campagna di informazione Aria di Toscana, finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo per spiegare ai cittadini, con Deplian, Spot, Audio e Video, i comportamenti utili alla riduzione dell'inquinamento. I modi sono tanti, per esempio non accendendo fuochi all'aperto, limitando l'uso dei motori diesel e di camminetti e stufe a pellet. Azioni in linea con il piano regionale per la qualità dell'aria, che ha un obiettivo ambizioso. Portare la comunità della Toscana al 2020 a non dover subire più sforamenti per quanto riguarda le PM10, che sono il risultato di processi fondamentalmente di combustione, il biossidio d'azoto legato al traffico veicolare, di avvicinarci sempre di più a livello obiettivo per quanto riguarda lo zono. Quindi un complesso di obiettivi che non sono quelli consueti di lungo termine, ma sono molto vicini e che richiedono quindi un impegno importante da parte di tutti. Le linee guida per la messa a dimora degli alberi nei centri urbani sono state redatte dalla Regione, dal CNR, dall'ASL Toscana Centro, dai comuni di Pistoia, Lucca e Firenze e dal distretto rurale vivaistico e ornamentale di Pistoia, dopo gli studi effettuati su diversi tipi di piante. Abbiamo visto che le piante possono rivestire un ruolo interessante per il miglioramento della qualità dell'aria, perché possono filtrare l'aria e assorbire gli inquinanti che sono dispersi. Abbiamo verificato che però non tutte le piante hanno lo stesso effetto da questo punto di vista, per cui abbiamo predisposto queste linee guida proprio per dare indicazioni ai comuni soprattutto, ma anche ai privati cittadini, di quali sono le specie arboree che maggiormente hanno effetti positivi per la qualità dell'aria.